E' un grande appello al popolo del mare. Sì, dal 18 al 23 di giugno venite tutti quanti a Venezia con la vostra barca, con la vostra famiglia, venite a vedere il Salone del Mare. Il Salone Nautico di Venezia è la prima edizione, sarebbe anche bello ricordarsi di esserci stati. E' un atto di coraggio, nessuno triunfalismo, l'abbiamo pensato in tre anni, uno sviluppo per forza lento. Perciò dobbiamo convincere di nuovo i dealer internazionali che venire a Venezia è conveniente, ma soprattutto lo è anche per le persone che sono già in barca, che spesso appunto sono le varie marine dall'Adriatico, dalla Croazia a tutta la costa italiana. Lui invitiamo a venire a Venezia per vederla e per farla vivere, per vivere assieme a noi la gioia, la festa del popolo del mare che si trova nel Salone Nautico di Venezia. Dal 18 al 23 di giugno di quest'anno e poi per altri due anni il Comune ha deciso di finanziare e di agevolare tutti quelli che vogliono venire a presentare le loro barche, la loro costruzione, i cantieri che decidono italiani, stranieri, internazionali, perché uniamo l'industria, l'industria nautica, all'arte e alla vitalità di una città che è stata a presidio occidentale per tanti anni e vuole continuare a essere del mare Adriatico, del Mediterraneo in generale. Grazie a tutti.